Mi serve, leone, mi piacere, mi mangio io a casa, ti prego. Non ce la faccio, ci volevo stare a casa, mi senti svuotato, mi sono svuotato, ti prego. Rieccoci, il signorino si sente svuotato, mi chiede il piacere e io arrivo e gli riempio il vuoto. E i vuoti miei? Chi li riempie? È tutta la vita che va avanti così. Sì, ero in seminario e sono un prete svuotato, mi dovevo sposare e invece sono un marito svuotato. Come fascista non mi sono mai riempito. Io mi so occupare solo di te, invece poi lui piglia, guarisce, piglia passaporto, se ne va a giro per il mondo e io... Ma che si scema, scusa. Ma loro non si scema, ma come io a loro mi fa piacere a te essere stato sempre malato. Sì! Sì! Se tu volevi bene a me come io ho voluto bene a te, allora rimanerevi e stavi... No, non te lo do, no, non te lo do, non te lo do, no, non te lo do. Troppo facile, eh. Non si va, si sta, si sta. Ma, vaffanculo tu, soldatino, passaporto, piglia tutto costo, stielo a te. Ma ti vieni entro un po'.